Da circa un anno il Comune di Napoli ha aderito con una delibera al protocollo rifiuti zero, una strategia messa a punto dallo studioso Paul Connett che mira entro il 2020 a rendere operativo un piano per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, sulla base di esperienze positive già sperimentate in altre città italiane ed europee. Il percorso si basa su un ciclo virtuoso dei rifiuti, al termine del quale non sono previste discariche e inceneritori, ma il riuso e il riciclo di tutti i materiali. Un progetto ambizioso che l'amministrazione comunale ha scelto di avviare con l'istituzione dell'osservatorio verso rifiuti zero. L'intero mondo sta guardando Napoli per vedere che cosa si può fare in questa città. La soluzione ovviamente è il porta a porte. Se è possibile farlo a Napoli ovviamente si potrà dire che è possibile farlo ovunque. Tutti sanno che questo non è semplice, però sanno che qui si sta provando, c'è anche una grande leadership e quindi si è sulla strada giusta. Presieduto dal fautore della teoria Connett, il nuovo organismo coinvolge movimenti, associazioni e rappresentanti della società civile, con il compito di promuovere e monitorare le azioni intraprese dal comune per individuarne criticità e possibili soluzioni. Tra le iniziative di riduzione dei rifiuti già avviate dall'amministrazione comunale, il bando per l'utilizzo di stoviglie compostabili nelle mense scolastiche e la recente sottoscrizione della carta contro gli sprechi alimentari.